Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Si torna a parlare della rottura tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini I motivi della loro separazione sono stati svelati e lui ha parlato. L'ho aspettata un anno, ma adesso ho voltato pagina Una storia d'amore durata dal 2011 al 2017, quella tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini che ha lasciato stupiti tantissimi di noi I motivi della rottura e la fine di una importantissima storia d'amore A quanto pare la nuotatrice non era più certa del sentimento che li legava e nonostante il suo ex l'abbia, aspettata per un intero anno, le loro vite sono poi andate avanti, prendendo strade diverse Era stata proprio lei a lasciate lui. L'ho aspettata un anno, ma adesso ho voltato pagina aveva detto Magnini durante un'intervista a Verissimo Dopo sei anni d'amore vissuti insieme infatti, lo sportivo ha cercato in tutti i modi di poter dare una seconda possibilità alla loro relazione, senza però avere successo Recentemente, Filippo non è stato visto al matrimonio della sua ex, tanto che in molti hanno ipotizzato che i rapporti tra loro potrebbero essere ancora tesi La Pellegrini si è unita a Matteo Giunta e proprio in occasione delle nozze, ha dichiarato non sono molto agitata, è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante sono abituata ad altre pressioni Ecco il vero motivo della loro separazione, . Quali saranno stati i motivi reali della rottura con Filippo Magnini? La fine di un sentimento durato anni o obiettivi diversi che li hanno portati a perdersi? In passato lui aveva dichiarato È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli Forse vivere sempre insieme in basca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato Mi ha lasciato lei? Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita La fine di questa ben nota coppia è stata causata, quindi, da punti di vista diversi sul futuro Lei è ancora troppo concentrata sulla carriera per poter stare con lui, che invece voleva fare un passo in avanti nella sua vita privata, e quindi pronto a creare una famiglia Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale, per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video